ciao a tutti amici di vanilla oggi parleremo di mineko iwasaki la storia di colei che ispirò memorie di una geisha greta garbo la divina del cinema hollywoodiano si ritirò dalle scene a soli 36 anni l'abbandono della carriera nel pieno del successo e della bellezza fisica ha probabilmente aiutato la nascita del suo mito era ancora più giovane mineko iwasaki quando decise di ritirarsi a vita privata aveva 29 anni ed era la geisha più famosa di tutto il giappone tanto da essere chiamata a intrattenere ospiti illustri del calibro della regina elisabetta seconda mineko iwasaki nata nel 1949 in realtà si chiama tanaka masako e aveva appena cinque anni quando entrò in una okia una casa delle geisha nel quartiere gion di kioto dimostrò subito il suo talento per la danza tradizionale tanto che la padrona della okia madame oima decise di adottarla e di darle il suo cognome iwasaki mentre il nome mineko le fu imposto da un indovino doveva essere veramente brava la giovane mineko perché fu scelta come atatori eredie della casa mentre era ancora una maiko un apprendista l'apprendistato era iniziato a 15 anni e a 16 mineko era già la maiko più famosa del giappone ma arrivare a diventare una geiko termine di kioto per geisha non era cosa semplice né veloce raggiunse quel traguardo al compimento del suo ventunesimo anno la giovane donna diventò la geisha più ricercata per la sua bravura nella danza per l'eleganza e lo stile e poi per l'assoluta padronanza delle regole di una rigidissima etichetta poi quando raggiunse l'apice del successo decise di abbandonare ciò per cui aveva lavorato duramente per tutta la vita tornò a essere solo una donna ma libera da quei condizionamenti che avevano regolato la sua esistenza fino ad allora si ritirò la corteggiatissima mineko sperando di scuotere quel mondo uguale a se stesso da troppo troppo tempo voleva dare un segnale voleva studi ed educazione al passo coi tempi ma ottenne un solo risultato 70 geisha di altissimo livello si ritirarono subito dopo di lei nonostante ciò le rigide tradizioni dell'eokia non cambiarono mentre invece calarono drasticamente le vocazioni sono sempre meno le ragazze che negli ultimi anni decidono di affrontare un percorso tanto difficile quando arthur golden stava lavorando al suo libro memoria di una geisha intervistò fra le altre anche mineko iwasaki la sua maggiore ispiratrice le sue confessioni sarebbero dovute rimanere anonime ma lo scrittore invece la citò sia nei ringraziamenti del libro sia durante numerose interviste mineko ha sempre affermato che golden ha distorto la realtà in particolare per quanto riguarda l'aspetto della prostituzione ritualizzata senza contare che molti personaggi e situazioni in realtà positive nella vita della geisha vengono rappresentate negativamente nel libro ma aver svelato la fonte citato il nome e il nome ha provocato il danno maggiore iwasaki è stata accusata di aver violato l'antico vincolo di segretezza di un mondo tradizionale chiuso in se stesso dopo aver perso amici e interrotto relazioni importanti proprio a causa della notorietà arrivata con memorie di una geisha iwasaki ha deciso di scrivere le sue memorie che raccontano gli anni del duro apprendistato del successo come geisha e del suo tempo da donna libera nel 2016 in italia è uscito il libro dal titolo storia proibita di una geisha che racconta il duro percorso per arrivare a diventare la geisha più celebre del giappone e il cammino interiore che portò mineko a lasciare tutto per avere il privilegio eccezionale di diventare una donna come tante altre